Niccolò, alle spalle una giornata estremamente difficile come quella di ieri? Sì, ieri era prevista pioggia fin dalla partenza e già i corridori erano molto agitati. Ci sono stati un po' di inconvenienti, dopo qualche chilometro piccolo cane è entrato nel gruppo e tra l'altro in un momento dove si andava molto veloce, i corridori hanno iniziato a frenare e c'è stata una caduta già in partenza. Tu hai rischiato Niccolò, hai avuto dei momenti che hai temuto il pezzo. Fortunatamente ho visto cani entrare nel gruppo e pensavo veramente che entrasse dentro invece poi si è subito scansato quindi sono state solo delle scivolate e poi nel finale, ecco, a 5 chilometri è un'altra grande caduta, sono rimasto nel mio caso molto indietro e c'è stata un'altra caduta a 3 chilometri e con questo asfalto molto scivoloso in questi freni a disco appena sfiori un po' i freni scivoli quindi bisogna stare veramente molto attenti. Eh sì, 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 bisognerebbe guidare ancora un po' più di prudenza. Senti invece l'etapa di oggi? Oggi è un'etapa che sembra molto semplice ma in realtà è molto molto difficile e la strada è molto tortuosa, questo colle all'inizio e magari può arrivare la fuga, magari la volata e dipende un po' come si svegliano le squadre per controllare la corsa e sarà una giornata difficile secondo me. Tempo variabile ma la variante potrebbe essere il vento? Sì, anche sì, 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 gli ultimi 30 chilometri sono in piano e se ci fosse vento laterale sarebbe un'ulteriore difficoltà da superare prima della volata, ecco, abbiamo già la salita e le strade tortuose quindi vedremo come andrà.